Se tagliandomi un coglione dessi vita a un nuovo genio per mandare via il magone lo farei sembrare un premio gli chiederei occhi in fronte di mutarsi in un caronte caricarsi sulla barca mezza camera e gli scranni collegati gli occupanti quelli più insignificanti rovesciarli su di un'isola senza palme scintillanti meglio prodi in canottiera due ciabatte e la pancera che trovarsi a un ministero tagliateste e letterati per non dir dei casti e puri so svenuto ad ascoltarli non riesco a immaginarli ne spingendomi a drogarmi a dirigere in anteprima che un vetusto treno lima non sarebbe niente di importante se non per lo straordinario fatto che l'abbiamo preso come impegno senza alcun ritegno né contegno se non quello di inventare la gara chi la spara in aria purché cross e rara pensa a te tipo niente euro solo lira come far la rima compro muro e pirassi ma che senso ha o lasciare un bimbo a negare fingendo non sia nostro quel pezzo di mare ritornando agli altri mezzi pregherei lor signori di lasciare andare i vezi per pulire ottoni e ori procurarsi meglio mezzi tipo secchi e turapori per lasciar lisci e splendenti vetri, legni e pavimenti perché siano accoglienti per i belli nuovi eletti gli stracotti, gli esordienti i geniali e quelli netti meglio prodi in canottiera due ciabatte e la pancera che imbalsamati in carta pecora qualunquisti perbenisti anticristi, metodisti moralisti e mai razzisti sproloquiando di famiglia con il tatto delle mucche venderebbero la figlia per trombarsi anche le zucche tutti insieme in coro a maltrattare il nero che gli porti un voto appena in più per trovare lavoro ti fanno specializzare fino a che quel lavoro non c'è più di pulire strade, boschi, fiumi e prati non se ne parla più neanche un po' per sanare scuole, ponti, chiese e fondi puoi cercarli in vano non ci sono mai finché un'alluvione e un terremoto brucia in una settimana quanto a ritrovarla d'Urlindana meglio prodi in canottiera due ciabatte e la pancera però votate, 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 votate non credendo a miti o fate cercheranno un po' di luce tipo flash o conferenze come tutti i precedenti non faranno molti contenti forse non ho pure zia ma è terribile democrazia